A tu per tu ospita in questi cinque minuti Alessio Manica che è consigliere provinciale nonché capogruppo del PD nell'aula consigliare. Allora Manica entriamo subito a gamba tesa i cittadini, i cittadini vi rimproverano di perdere troppo tempo dietro sì a questioni importanti ma importanti per noi. Il mondo sta cambiando, le tensioni con la Russia, l'Ucraina, il Califato il presunto stato dell'Isis e noi stiamo qui ad ascoltare i nostri rappresentanti che parlano dell'Orsa, della riforma delle comunità, questioni sì importanti ma non sicuramente strategiche per il nostro futuro. State perdendo tempo, scusi la schiettezza della mia domanda, siete un po' avvitati su voi stessi? Sicuramente a volte la politica trasmette questa immagine in cui i tempi siano incompatibili con la velocità del vivere quotidiano, dopodiché condivido che in questo momento le priorità sono capire come si sta modificando la geopolitica internazionale e anche entrando in ordine di idee che tutta una serie di equilibri e anche di politiche utilizzate anche negli anni scorsi stanno fallendo, quindi qua ci vuole veramente un percorso di riflessione globale molto rapido perché non è sufficiente condannare come terrorismo gli atti che stiamo vedendo, dobbiamo andare alla radice del perché questi ci sono. Quindi sicuramente da parte di tutti uno sforzo per spostare l'attenzione anche su questa dinamica internazionale va fatto. Dopodiché noi siamo gli amministratori di questa terra autonoma e dobbiamo gestire e amministrare le competenze che abbiamo. Anche su questo credo che comunque una riflessione vada fatta e la politica debba accelerare la chiusura di alcuni temi che appunto, lei mi dice, sono percepiti come eccessivamente dilatati. Penso a riforma istituzionale, credo che ormai i tempi siano arrivati per chiudere. Se un modello non ha funzionato, ha dimostrato dei limiti, cambiamolo, prendiamo atto del momento in cui siamo e cerchiamo di accelerare. Altrimenti sì, altrimenti il Trentino rischia di muoversi a una velocità che non è più quella del resto del sistema. Ecco, qual è il rapporto vero con Roma? Non abbiamo abbastanza potere a Roma, o meglio, non abbiamo abbastanza conoscenze a Roma per avere un dialogo proficuo e soprattutto concreto. I comuni lamentano, lei è stato sindaco di Villa Lagarina, lamentano di vivere nell'incertezza perché c'è incertezza nei rapporti fra provincia e Stato, di conseguenza anche i comuni che devono garantire un livello di servizi che in altre parti d'Italia non ci sono, soffrono questa incertezza. Sì, credo che il termine incertezza centri esattamente qual è il più grosso problema in questo momento nel far politica, nel pianificare. Questa situazione di non certezza delle risorse, ma anche delle scelte politiche che credo gravi non solo sulle province autonome, ma su tutte le regioni è quella che dovremmo eliminare rapidamente. Detto questo mi sembra evidente, credo che percepiscano tutti, come in questo momento lo Stato si stia cambiando, stia cambiando la sua ossatura e stia cambiando le politiche. Quindi è inevitabile che ci troviamo dentro un magma in movimento e in questo noi dobbiamo cercare di giocare al meglio la partita per il Trentino. Questa è una partita che potremmo paragonare a Rockmaster, nel senso che per il Trentino affrontare e difendere quello che è lo suo status di autonomia e spiegarlo oggi in un contesto di crisi e di forte anche critica, chiamiamole invidia da parte del resto dei territori, non è un percorso facile. Sicuramente abbiamo un deficit di comunicazione, credo che il resto d'Italia non capisca cos'è l'autonomia, quali sono le competenze e quali sono gli oneri che ne derivano, dopodiché, lo ricordo sempre, io 500 mila siamo e questo è il nostro peso all'interno di uno Stato che invece supera i 50 milioni. Quindi sicuramente paghiamo il limitato peso di una terra come il Trentino, che è una terra autonoma, ricca sicuramente, ma che ha dimostrato una grande efficienza e rispetto a terre autonome, inefficienti come la Sicilia, abbiamo un peso parlamentare sicuramente misero in confronto. Ecco, delegazione parlamentare di poco peso? Numerico, i numeri contano a un certo punto, credo che noi siamo ben rappresentati dal punto di vista soggettivo, poi alla fine siamo in 6 a Roma, se la Sicilia sposta i suoi 30-35 parlamentari credo che l'impatto sul Parlamento sia diverso, questi sono elementi che non possiamo far finta di non vedere. Abbiamo un'intervista raccolta da un cittadino che ci è venuto a trovare che chiede alla politica. Sentiamo cosa. Cosa pensate di fare per tutelare e valorizzare l'ambiente e la natura? Che è un valore, un plus valore per il Trentino, l'ambiente e la natura. L'ambiente e la natura probabilmente è l'unico vantaggio competitivo del Trentino non scalfibile, non esportabile, non internazionalizzabile, non delocalizzabile. Guardi, io credo che sull'ambiente del Trentino debba non scomporre, non far passi indietro a una politica comunque attenta che in questi decenni abbiamo costruito e che è percepita all'esterno di questo territorio come valore aggiunto di questa terra. Quindi attenzione in questa fase di difficoltà anche economica a non mettere in discussione alcune scelte anche forti sulla tutela d'ambiente che abbiamo fatto. Potenziare gli strumenti che abbiamo, in questi giorni si parla anche per esempio del ruolo dell'APA che negli anni scorsi aveva avuto qualche difficoltà. Questi strumenti potenziamoli, non depotenziamoli perché sono le garanzie della tutela del nostro territorio e quindi cerchiamo poi di far sì che ciò che da questo ambiente esce, che sono anche le differenze che abbiamo rispetto agli altri territori, siano gli strumenti con cui noi ci poniamo sul mercato anche in maniera competitiva. Faccio un altro esempio, il legno. Il legno non è una potenzialità del Trantino, ma dobbiamo valorizzarla fino in fondo, dobbiamo trasformarlo, trasformarlo in oggetti. Quindi cerchiamo di capire che questo è probabilmente l'unico vero valore che nessuno ci può portare via. Ecco, nessuno nega che ci sia qualche tensione, anche se non appare, cercate di nasconderla, fra il PD e il PAT ci sia qualche tensione. Io le giro la domanda, che voto da Rossi ha competenza sull'istruzione, dice che bisogna fare una valutazione sugli insegnanti, facciamo una valutazione su Rossi. Qual è la valutazione del PD su Rossi? Un voto è quella di Manica, consigliere. Non possono essere disgiunte? Ma credo che Manica come caporupo possa dare una valutazione unitaria e credo che senza cedere in un senso o nell'altro il voto sia positivo in questo momento. Non ottimo, ma non ottimo perché, l'ho detto anche pubblicamente, è l'intera compagine della maggioranza di cui ovviamente Rossi si assume la massima responsabilità e quindi all'interno di questa che è il PD che adesso deve fare uno scatto, un'accelerazione. Abbiamo passato un primo anno soffocato, soffocato dalle urgenze, soffocato dalla partenza della legislatura, soffocato dalle polemiche sui vitalizi. Ora la maggioranza, è Rossi in testa, deve porre l'accento su tre, quattro temi strategici e su questi indirizzare il Trentino. Quindi chiudere rapidamente la partita della riforma istituzionale, dare una prospettiva chiara al territorio sulla riforma del sistema sanitario, tema del lavoro, il rilancio dell'economia. Quindi su questi temi la maggioranza deve avere uno scatto, un'accelerazione. Quindi dico, voto positivo, ma si può fare di più. Si può fare di più. Potrebbe impegnarsi di più, insomma. O meglio, deve impegnarsi di più con tutta la maggioranza e tutta l'aggiunta. Noi salutiamo il consigliere Alessio Manica, grazie di essere stato con noi e ci rivediamo con un altro ospite di A2x2. Grazie ancora. Alessio Manica Grazie a tutti.